Quella parola che un giorno, davanti a una tomba, gridò, Lazzaro, vieni fuori, e così avvenne oggi in mezzo a noi. Non ha cessato mai di volermi tanto amore, non si è stancato mai di volermi tanto bene. Vi sono tanti eventi belli e meravigliosi, ma noi abbiamo un evento speciale dove facciamo vedere un Gesù vivo e operante in mezzo al popolo. Il 17 giugno, nello stadio Arechi di Salerno, terremo un congresso internazionale dove saranno presenti due grandi carismatici, il dottor Ironis Pulgaro, brasiliano, padre Dario Betancourt degli Stati Uniti, che pregheranno con noi, lodaranno il Signore e chiederanno al Signore Gesù che operi meraviglie d'amore in mezzo al suo popolo. Venite, fate un'esperienza di un Cristo vivo che possiamo sentirlo presente nella nostra vita e nei momenti duri che noi affrontiamo giorno per giorno. Venite, vi aspettiamo con gioia per lodare e benedire assieme il Signore Gesù e ricevere da Lui grazie e benedizioni. Venite, fate un'esperienza di un Cristo vivo che possiamo sentirlo presente nella nostra vita e nei momenti duri che noi affrontiamo giorno per giorno. Venite, vi aspettiamo con gioia per lodare e benedire assieme il Signore Gesù e ricevere da Lui grazie e benedizioni. Grazie a tutti.